non può avere la residenza nel comune di Roma e abito e lavoro qui e facciamo il culo fuori dal comune presto presto un cognico e una grappa un rimedio per un zinghiotto oh ma che sei scelto vedi questa rimedio migliore vedi che ti è pazzato e te credo che mi è pazzato mica ce l'ho io il zinghiotto c'è la mia moglie che sta dentro la macchina ma vaffanculo fortunato al gioco e sfortunato all'amore eh guarda che io modestamente le donne del quartiere me ne so fatte tutte all'infuori di mia madre e mia sorella e allora in due si siamo proprio fatte certo qui strascio tutto si salvi chi può primo voglio sapere chi mi ha rotto la porta di casa secondo voglio sapere chi ha violentato mia moglie terzo voglio sapere chi ha pittura del culo di rossa si faccia l'antischi ciao ciao ciao